La precessione del perielio dell'orbita di un pianeta è un fenomeno previsto dalla teoria della relatività generale. In particolare, è possibile calcolarne con precisione l'entità, studiando le geodetiche, cioè le traiettorie spazio-temporali delle particelle di prova, all'interno della metrica di Schwarzschild, la quale viene considerata come la corretta modellizzazione del campo gravitazionale generato dalla stella. La metrica di Schwarzschild, tecnicamente parlando, è una delle tante soluzioni alle equazioni di campo di Einstein, che ci dicono come la presenza di massa e di energia sia in grado di incurvare lo spazio-tempo e come, di conseguenza, le masse si muovono all'interno di questo spazio-tempo curvo. In effetti, la novità più importante introdotta dalla teoria della relatività generale è l'interpretazione dei campi gravitazionali in termini di curvatura dello spazio-tempo. Si tratta di una visione geometrica del nostro universo che ha rivoluzionato completamente la visione classica che aveva Newton con la sua legge di gravitazione universale. Dalla legge di gravitazione universale passiamo, con la relatività generale, a un'equazione di campo, appunto l'equazione di campo di Einstein, che collega questa curvatura dello spazio-tempo, che rappresenta proprio la gravità, alle sorgenti del campo gravitazionale, che possono essere zone in cui abbiamo una densità di massa oppure una densità di energia. Un corpo sferico con una rotazione non troppo elevata può essere descritto all'interno di questo nuovo modo di vedere le cose dalla metrica di Schwarzschild, che è una soluzione, proprio dal punto di vista matematico, di queste equazioni di campo. Quindi anche il nostro Sole è descrivibile tramite tale metrica. All'interno del nostro sistema solare, Mercurio è senz'altro il pianeta in cui la precessione dovuta a effetti relativistici è maggiore. Una volta presa in considerazione la precessione classica, dovuta alle perturbazioni causate dagli altri pianeti del sistema solare, ben spiegabile, secondo la meccanica newtoniana, rimangono ulteriori 43 secondi d'arco al secolo, non spiegabili classicamente, che sono in buon accordo con la precessione al secolo che si ricava effettuando i calcoli in relatività generale. Una cosa che forse non tutti sanno è che se venisse fatto orbitare un satellite artificiale attorno al Sole, con una distanza media dal Sole pari a circa 10 raggi solari, la precessione secolare sarebbe di ben 8.250 secondi d'arco. In altre parole misureremo in un solo anno quasi il doppio della precessione secolare di Mercurio. Avremo così un buon test della teoria, programmabile e riproducibile. Purtroppo, però, un oggetto piccolo e leggero come un satellite artificiale sarebbe soggetto a enormi perturbazioni non gravitazionali, come la pressione di radiazione, il vento solare e micrometeoriti. Si tratterebbe quindi di perturbazioni difficilmente quantificabili e che renderebbero vano un simile esperimento. Almeno per ora. Le animazioni che avete appena visto sono state realizzate dal canale Teleboy, che ringrazio tantissimo per aver partecipato a questo video. Trovate il suo link in descrizione e naturalmente vi invito a visitarlo e a iscrivervi. Detto ciò, io vi saluto, vi ringrazio come al solito per aver guardato, vi invito a seguirmi anche su Instagram se volete e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao!